Salve a tutti e bentornati a interpretarte oggi avrei voluto iniziare la prima puntata di questo videoblog parlando del mio metodo ma questo non accadrà oggi perché quello che voglio fare in questo momento è dedicare un pensiero a uno dei più grandi attori che ci ha lasciato è Robin Williams questa mattina mi sono svegliato con la notizia in radio che Robin Williams era morto e la cosa mi ha scosso particolarmente perché è uno dei miei attori preferiti non riesco ancora a usare il passato e il modo in cui se n'è andato credo sia una di quelle cose che non può lasciarti indifferente una persona che insomma muore nel suo appartamento solo soffocato pare non si sa da cosa la dinamica ancora non è chiara scoprire che era una persona depressa ormai da molto tempo insomma la notizia mi ha scosso alquanto e mentre rifacevo il letto della mia stanza piangevo pensavo a Robin Williams e piangevo piangevo di quel pianto silenzioso di quel pianto che non è dolore forse somiglia più a un pianto di profondo dispiacere e davvero è una cosa tremenda perché per chi fa questo mestiere per chi fa l'attore nella vita attori come Robin Williams rappresentano a mio avviso come dei padri putativi dei mentori inconsapevoli chiaramente perché loro non sanno di essere il tuo mentore in qualche modo o se ne hanno la percezione ne hanno una percezione globale che chiaramente esclude il singolo in questo caso me e davvero sono profondamente dispiaciuto, addolorato per questa perdita perché un attore del calibro come lui non avrò e non avremo più modo di vederlo sul grande schermo potremo soltanto ricordarlo attraverso le sue più grandi interpretazioni ecco lui era proprio un grande interprete era una persona che sapeva cambiarsi in continuazione la sua grandezza era questo era la continua ricerca di qualcosa di nuovo non era mai lo stesso in ogni film vedi un Robin Williams diverso questo credo fosse l'impronta digitale del suo immenso talento di cui oggi tutti ne saremo privati quindi ecco questa che doveva essere la prima puntata di interpretarte vuole essere invece un un ricordo di questo grande attore che nasce un un grande vuoto nel mio cuore e penso nel cuore di tante altre persone attori e non persone che che amano il cinema il teatro la genialità era un attore simpaticissimo io l'ho visto non molto tempo fa proprio in alcuni video qua su youtube era credo la consegna a Robert De Niro di un premio che si chiama AFI un premio alla carriera e al contributo che 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 viene portato da questi attori al mondo del cinema e dell'arte della recitazione e Robin Williams fece uno degli interventi più divertenti che abbia mai che abbia mai visto era proprio una persona di di una grande ironia di una comicità così naturale era pazzesco e quindi che altro dire io sono senza parole ciao Robin a Grazie a tutti.